Ehi la ciurma, io sono Mezzatessa e questo brevissimo episodio è solo per avvisare tutti quelli che sono interessati a Mountain Blade 2 Bannerlord che questo venerdì ci sarà una live su Twitch di domande e risposte su Bannerlord sarà un gameplay di Bannerlord in cui risponderò a eventuali domande su cose che non ho ancora trattato nei miei tutorial prossimamente ne arriveranno altri ma sono ancora in lavorazione quindi appuntamento venerdì primo su Twitch indicativamente verso le 21 vi consiglio di seguirmi sul canale Telegram che troverete indicato in descrizione qua sotto o comunque sul canale Discord per avere più indicazioni o anche su Twitter probabilmente aggiornerò insomma il canale Telegram è il punto migliore dove potete trovare l'aggiornamento sulla live di venerdì prossimo appuntamento quindi primo maggio 2020 ciao